ecco il testo tradotto in italiano l'annuncio shock di peppe di napoli ho un tumore io notizia shock di peppe di napoli in un commovente intervento pubblico l'ex calciatore italiano peppe di napoli ha rivelato di avere un tumore questo annuncio è stato sorprendente per molti dei suoi fan e per il mondo dello sport soprattutto considerando che di napoli era ancora attivamente una figura influente nel calcio fino a poco tempo fa la notizia sulla sua malattia ha scatenato una valanga di supporto e preoccupazione di napoli ha spiegato che la diagnosi lo ha proiettato in una grave crisi personale con la testa bassa e parole chiare ha informato che deve affrontare una lotta difficile per combattere la malattia ha dichiarato che nei prossimi mesi subirà trattamenti intensivi inclusa una terapia che potrebbe essere estesa anche se non voleva specificare il tipo esatto del tumore ha sottolineato l'importanza di questo viaggio impegnativo per la sua vita le reazioni dal mondo del calcio sono travolgenti molti ex e attuali giocatori oltre allenatori ed esperti sportivi esprimono la loro solidarietà e mostrano il loro sgomento per la notizia in diversi social media sono stati pubblicati numerosi messaggi di sostegno e parole incoraggianti si dimostra che la comunità del calcio nonostante le rivalità e la competizione si unisce nei momenti difficili di napoli stesso ha dichiarato di contare sul supporto della sua famiglia e dei suoi amici durante questo periodo difficile ha sottolineato quanto sia importante non essere soli nei tempi di bisogno la solidarietà dei suoi simili gli darebbe forza e speranza per combattere questa battaglia inoltre ha chiarito di voler rimanere positivo e concentrarsi sulla sua guarigione la situazione di peppe di napoli è un'urgente promemoria per il pubblico su quanto possa essere vulnerabile la vita umana indipendentemente da fama e successo affrontare una grave malattia può rappresentare una immensa sfida per chiunque ed è importante che la consapevolezza su tali temi venga aumentata. Viele spezielle Organisationen bieten Hilfestellungen für Menschen, für Menschen in ähnlichen Situationen an und es ist von großer Bedeutung, diese Ressourcen zu nutzen. Abschließend bleibt zu hoffen, dass Peppe di Napoli schnell die notwendige internationalen Handlung erhält, die er benötigt, um diesen Kampf erfolgreich zu bestehen. Die Gedanken viele Menschen sind bei ihm in dieser schweren Zeit. Molte Organizzazioni speciali offrono supporto a persone in situazioni simili ed è fondamentale sfruttare queste risorse. In conclusione speriamo che Peppe di Napoli riceva rapidamente il supporto e le cure necessarie di cui ha bisogno per affrontare con successo questa battaglia. I pensieri di molte persone sono con lui in questo momento difficile. Autore Anita Fa che venerdì 27 settembre 2024